Mi sa che c'è un problema No, vale Non hai scaricato FIFA, vale Come, veramente? Eh vabbè, dai, ci vediamo al Ma in realtà, no, noi vi ero preso un botto Non lo so se riesci a cercare Pesa un pochino FIFA, però vedi tu, insomma, se ci sei Ci vediamo alla prossima Yuma Allora vai Ma non ce l'avevo installato Su disco D Disco Dense, intendi? Sì Perché con Origin puoi fare Ehi guarda, Ciccio Ari ci dice viva la FIFA Una battuta per niente Dov'è Origin? Qui, Origin Games FIFA 21 E se tu fai doppio squis Eh spera che sto facendo doppio squis Cos'è? Sei impazzita o hai in ritardo Hai fatto un copy and call da qualche parte Ma poi sei in ritardo di 10 ore Il live di Apple è stata stavolta Cioè, il gioco FIFA 21 non risulta installato Ma è qui? Magari il messaggio precedente è Il problema è il seguente Perché sono un imbecille È un Vector che gli ha risposto vai Quindi, probabilmente, qui ne è colpa di Vector Ah, forse doveva dare un'informazione Ah, ok Lei ha detto il problema è il seguente E poi ha incollato quello Lo rigano Trova il gioco Ragazzi, mi sento male Come se mi stesse pervenire un infarto Può essere? Può, è probabile Quale braccio è il problema? Il sinistro Quindi penso proprio siano un infarto Ecco, accasciati un attimo Ok Sto facendo verifica dei file di gioco Quattro minuti Vabbè, in caso ne facciamo una Poi usciamo Sì, infatti Fate Fate voi No, lo faccio io Devi far uscire il portiere Tutte ste robe Ah, no, lo do a Luca Ci fa piacere Per la gioia di Corvo Che so che è un grande estimatore Sì, tanto di cosa Mi è arrivata la quarta maglia dell'Inter Orca miseria Ma sai che Che non potrà essere utilizzata No, infatti Io non la Non è che usano a prezzo Grazie Grazie Emilio È caduto? Che è caduto? Eh Grazie anche a un Grazie mille anche a te carissime Devo prendere un goccio d'acqua Devo prendere un goccio d'acqua Vai Mio nonno Che ciucciata Voila Voila Ragazzi, oggi di nuovo Sì Oggi pomeriggio Ho fatto qualche Ranked su Apex Andavano tutte Abbastanza male Prendo Gibraltar E arriviamo secondi È proprio Gibraltar Che porta bene Ragazzi Invece Marco Ho finito Outriders In modo Sei veramente il solito Dai, muoviti Che dobbiamo fare Le spedizioni Magari Sarà uguale al resto No È un po' diverso Cioè È proprio diverso Una modalità diversa Ovviamente devi fare una Una missione E devi Devi farla in un certo tempo Per un certo loot Cioè c'è Brunzo, argento e oro È come World Warcraft E alla fine ti dà Tutto il loot Per fare altre spedizioni Un pochino diverso Però il concetto è simile Sarà quello Sarà Oh mio Dio Quenz Querx Stepney Oh porca mignota Spittalo, spittila Ma che stronto Ma la deviazia No, no, aspetta Ah, ecco Mi faccio ingravitare Di nuovo È il long bottom Verrà Bene Come è possibile che non ho preso la palla Ma mi ha dato il fallo però Eh sì, hai preso lui L'hai falciato È arrivato un pelo in ritardo Sembrava però Il pronostico è già stato pronosticato Anche dietro Anche dietro Sì, anche io sono sulla tre quarti Era per Oh no, va bene Va bene Ah no, dai Dai, dai Cascinierina Ragazzi Ma il clown Dei McDonald's Mi sembrava da lontano The clown The clown Questo pure È un piccolo gnomo Piccolo elsa No, dai Aiutalo Un piccolo elfo Verrete scammati dal mutaio Come una volta scorda Vector Ma forse sei fuori giuego Ma corn o no? Corn Era corn lui Comunque va bene Era per te corn Sì, lo so, immaginavo Mi ha fatto il velo Porca miseria Quello E dietro se vuoi? No Beh, ci stava Ci stava come 1-2 È stato bravo il difensore Un altro piccolo elfo di Babbo Natale Sono tutti particolari Con le calzette tutte colorate Belle, mi piacciono Mi piacciono i colori Mi piace tutto Mettono allegria Bello Cerca la giocata laterale Orca miseria È normale che l'ha toccata Shapiri Grazie Da non confondere con Shapiri Che è quello Vagli incontro, Moro Vagli incontro, Moro Vado sugli Ezra Va anche più umido Questo è un problema Proprio preciso a lui È arrivato No, è la palla Ma che palla Non l'ha neanche vista Ma questo è paresi Come dici? No, niente Scherzavo Ah, sarà meglio Cimmo È un po' di otite Di concedergli Un'altra occasione È l'otite È il profumo della vita Non credo Da piccolo Mi soffrivo parecchio È stato terribile Io no Fortunatamente Sono da piccolo Poi crescendo Fortunatamente Per adesso Non ho avuto particolari È diventato un orecchione Corvia Protti Trippo Ma perché? Ma io ero fuori gioco Mi sa quindi Eh no ma la volevo dare a Mark Solo che boh Il personaggio l'ha ignorata Ma figurati Sempre sull'esterno Ma Maxwell E dai Mi lascia Mixwell Stilina Eh l'ha controllata col buco Attenzione Calzettone sexy qui Ma hanno la cosa Di play ball Ma vuol dire la mano Mancano solo le orecchiette Le cime di rapa ovviamente Buono esatto Le orecchiette non le mangio mai Le orecchiette non le mangio da parecchio Colpa mia questa volta Ragazzi lo ammetto Lo ammetto Questa volta è colpo mia Guarda che stamattina abbiamo parlato di cibo Dopo tanto tanto tempo eh Ah sì Non lo so Non mi ricordo quando l'abbiamo parlato l'ultima volta Eh pensa Ma sicuramente a breve Che ne parliamo talmente tanto No no Secondo me è un botto Che non parlavamo di cibo Occhio che quel mezzo anno Io ti aspetto Era fuori gioco No 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 Ragazzi che culo C'è un'atmosfera Eh Davids certo Ha fatto il sium Dici Ma che brutto Ragazzo Diciamo Ma no Ma è moro Quei capelli lisci Ma dove cazzo L'hai visto Quei capelli rosa No non l'ho visto Bodyshast Sì sì no Era chiaramente Bodyshast Bodyshittis E' il tiro L'ha detto L'ha detto eh E' il tiro E' il nino Non la voglio No 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 Oh me sì Era un contrasto Mi sa Tut posto Tut posto Savonese Cos'è Madonna Sare anche come si chiama quel comico lì Sono un mondo Sono un mondo Eh ti ho visto Oh Dagli le spinte Bene Non lo dico a Marco Che sono fraintendo E gli spacca la faccia Oh E con che leggiaderia Me l'ha sull'alta Al centro Grazie sabbia Grazie sabbia Quanti 99 di fila Due in realtà Non troppo No Porca putain Io ho tremuto subito ragazzi Giuri in giuro Totti Non ce ne sono totti Ma che siete due Porca merda Ah Scusami Non avevo capito No ma in realtà Era più quella Via centrale Ma a quanto pare Il mio personaggio Ha disimparato Una chino Passarla Occhio Guardi sempre Nascosto dietro Un rosa Eh no Ce l'avevo già lì Che fa Batteria K per i Z Ok Ah Ma va bene Ma come Come stanno stretti Questi Non li riesco a spingere Più da Bene Va bene Sono sempre In mezzo I maroon Maroon 5 Grazie Grazie Stefano 96 Grazie 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 Vediamo cosa inventa ora Attenzione Mi ha preso subito Oh mio dio E' andato passando da 7 ore Via Ma sei scemo Non l'ha neanche dato Non l'ha neanche dato il vantaggio Ha sbattuto su Ha ucciso uno che Che era da solo Senza palla Senza pelle Eh no Era un po' prevedibile Era un po' prevedibile Di Billy Di Billy No Bello No Ma dai Ma non c'era neanche il simbolo Forse ne hai fatto un altro No no Se c'era il simbolo Ah era il fuorigioco di Corne Avendo tirato Scomparso No La munizione era di Corne Però ha fermato Questa azione Per un fuorigioco Che facciamo Ah ecco Ma non ce l'avevo Non era nostra da molla Eh si vede che era Avevamo fatto fuorigioco Ah Non sono forti questi eh Come no Non sono forti Ma neanche noi Sono comunque più forti di noi Esatto Non saranno forti In questa parità Non stiamo creando effettivamente niente Non stiamo creando Sì Non ci stiamo organizzando Non c'è creanza qui Ci penso io Che voluto di crescenza La crescenza di pelle Ma cioè Totti Ma non è Totti Non è Totti Quel signor Ma lo ricordo Totti Sarà solo lui Con quel cognome Siamo insetto Nel mondo Siamo 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 Totti Grazie Sangua 99 Beh No no Non ce la fai Lui Ti ho preso in giro Ma le sei Illusioni Che è successo Ma lo sei troppo di qua però Eh ma Dove venire a marcare Qualche due No Porca Proprio abbassato Per fargliela prendere In Ex Era per Corvo Corvo non si può dare la palla No no E neanche Corvo a me Cioè ogni volta che stiamo cercando di passarci la palla La passa qualcun altro Che il portiere diventa duro Quindi non gli puoi togliere la palla Delle mani Quando ce l'hai incastrata Nei suoi blocchi di cemento Chiamati mani Ho ucciso uno dei nostri Quando voglio Anche Arrivo Nooo Troppo troppo tempo Tanti Protti Io ho provato a ucciderne uno Ma Lui ha provato a fare una cornella Post Maia ma che Ho rotto la Corvo Spero Tens Eh dai Tens Ma Degli Sì Poggio la dietro Maduro Schultz Di nuovo Ah mannaggia La balena Giuseppina Chi lo sa Chi lo sa Non era Ma questo è successo Perché il difensore è andato fuori dalle palla Perché ce l'ha segnato Via 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 Ha chiamato un altro Capito E invece Calciano lo stinco Calciano lo stitico E poi caca Ma c'è cacashi di là Proprio Di cacca Oh madonna Bello Su Organizzazione Corne Organizzazione E sei in centro campo Ma perché finché mi si allargano Eh ma bene Buono il contrasto Recupera il pallone Basta Non c'è arrivato Hassan Occhio centro Ma come l'ha fatto a passare No scusami Come l'hanno piazzatina Sì Come l'hanno piazzatina Bravo E' giocato male male E' fortissimo Fortissimo Vieni Sì Non facile Per quanto si è visto Finora Cazzola Maduro Corvia Dido Dido A quello Mi si è Indormentato Dietro Grazie Bronchenolo Grazie Bronchenolo 99 Niente Mi Mi Spostano Ci fanno sempre Le balle Questi qui Sono sempre Prosto Sempre Metto Le 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 Muto Il Tasto Per Mantenere La Posizione Me Lo Teneva Fuori Gioco Scusate Perché Loro Sanevano Corri 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 E che Grosso Che Questo E' Morto Ragazzi Attenzione Pino Scotto Grazie Scorpio No Luke Di questa Città Ovviamente Non era Non era Pino Scorpio No Luke 99 Ciao Pino Eh no Corso E dai E dai Quando mi fate Il campione Del cuore Di questa Cuita Moro Appetizer Non puntare Sempre alla Porta Hai un Fesco Della Madonna Devi proteggere Il pallone Ma in realtà Era il tasto Per proteggerlo E poi passare Solo che Non ha preso Io premo Sempre il grilletto Per proteggere La palla Anche se la devo Passare Invece Premi Quello Per Che Ho provato Il dribbling Un paio Di volte Ma non sei Riuscito A girarti Per cadere Perani Beh Non ho capito Se era mia Non lo so Io ho provato A schiacciare Un tasto Del passaggio Ma ho visto Che non faceva Niente Quindi Vabbè Quello Neanche a me No Non correva Neanche Verso Il pallone Quindi Aveva già Accorato Che non Era nostra Ma dai Ma me l'hai Buttata Nei piedi Niente Ma strebbe Che pedata Sempre tonti Ma cos'è succeduto Lì Ma che cazzo Ma non è possibile Che non la prendiamo Mai Corfish Grazie Ale Grazie Ale 99 Corfish È bellissimo Avanzo Se no Non me lo fa Corne C'è spazio Per lui Ottimo lavoro Ottimo lavoro Non c'è spazio Abbiamo Abbiamo dato Abbiamo dato Uno squillo Di troppo Adesso Se la tengono Che schifo Riprestiamoli Riprestiamoli Un senso Però Sì Porca miseria Beh E' fucilata Valentino Sei a un transito Sì Però Dovete Comunque Uscire Va bene Però ci sono Ci sono Il gioco Opened Esci Piripiri Pipiri Pipiri Piripiri Piripiri Allora Proprio quella Bravo Allora Sono nata con una Stanotte Stanotte Stasera Eran Che sera Faccio Un esperimento No Dai No Ci sarà Un golo Cantuzzi Molto più Un golo Cant E molto meno Uzi non ho capito quindi sei superman? quindi sono piccolo ah ok quindi più uccido no no sempre dipendente del centrale il centrale centrale è piccolo? sì mi sembra un'idea del cazzo anche a me non lo sapevo e non ho capito perché cosa ho fatto? ah non sono dentro scusate ma quella del diavolo stanno buttando giù come canzone sì sono lillo quella dell'inferno prego Valentino scusate mi avevo dimenticato che sono io che comando le operazioni era lui quello delle scarpe? lillo? no lill nas beh quasi ho detto lillo sì lill nas era mi sembra quello delle scarpe di satana ma che cazzo vuol dire che gli buttano giù magari hanno detto ci dissociamo tutti via togliete tutto stacca stacca poi non so neanche se lui c'entrasse con che maglia avete giocato? quella blu nera scura ok allora giochiamo così che bella quella maglia non le sa ragazzi la voglio io quella cosa con le scarpe che erano uscite erano sue ma era il marchio causato che non era al vero infatti hanno detto no che era la like che era la like ha detto no che non sapevo nulla di sta cosa è il contrario a fare le cazzate camma sì carmolo questa domenica non posso non è vero non è vero Vector per favore visto che sono impossibilitato anche a me anche a me ha scattato leggermente c'è il simbolo di merkel si sistemerà penso grazie Sam questi sono decisamente più forti anche perchè sono in 3 no questi sono dei cheater altro che infatti ralcio di cigore grazie ralcio grazie ralcio di cigore 99 questo è veramente piccolo c'è sempre il simbolo c'è sempre il simbolo mediano e infatti la scattiva ragazzi qualcuno che non ce l'ha a Tim? no qualcuno che non ce l'ha ah ok io ho Tim e ce l'ho non ce l'ho anch'io di decifrare e infatti mi sa che tutti cambiamo Tim e facciamo quel simbolo sì effettivamente sta scatticchiando vediamo giocare è giocabile cioè per adesso è giocabile mi dà fastidio insomma non è vero per me è giocabile è vedibile no vedibile è vedibile vedo che c'è un attimo di è come come Outriders il day one a me non è così grave tonna grazie a Zeo grazie a Zeo 99 si vede che non è che va ogni tanto così non è così terribile vorrei che sia Tim provabile eh boh sono laggiù vedi anche lì ho fatto un passo in più di quello che volevo fare meno male che sono riuscito lo stesso chissà cosa succederà ora no stiamo già caricando il tiro era per Korn che era ho sbattuto le dosse pensavo tirassi te Corvo no era troppo angolato no era buona l'idea Corvo peccato che non mi ha tirato ma lo sta battendo fuori quindi è particolare sta cosa perché sono credo server no perché non capisco un cazzo no a me non è così grave a me è abbastanza c'è della serie che faccio uno o due passi in più ragazzi sono un fenomeno fenomenale tiè mamma mia non ci credo non ci credo meglio così piuttosto che il pallo adesso mi è comparso giallino a me il simbolo a me è sempre rosso allora forse magari sono problemi proprio da stare vediamo se ne passa speriamo passa a me sono questi qui che giocano con il cito che fanno la gara dov'è passato questo? parola lì Cantucci vedi tu bravissimo Marco grazie no hai fatto una grande manovra vedessi a letto ah però come ho fatto ad avere già il difensore qui? perché è buono schema piegherà lo schermo sicuramente no pensavo di averla sicuramente adesso mi ha fatto uno scatto non indifferente proprio adesso proprio adesso aiuto come ti ho trovato sono un fenomeno oh 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 bravo è arrivato l'arrotere eh di S buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passato no dai perché non mi è arrivato grazie bis grazie erica grazie bistowl grazie erica erica 99 bistowl 99 grazie occhio al tiro della battaglia io ho sbattuto uno ormai mi sto abituando ormai sono entrati in quell'ottica ormai i miei occhi non vedono più a 60 fps poi è dato giallo tanto il tisano all'occhio non può vedere a più di due fps occhio è voluto darla a intervalli irregolari certo ma grazie robo warrior no robo wizard robo wizard 99 grazie darlo anche a me adesso è rosso mi ha fatto per un attimo giallo poi io di rosso su fifa voglio solo una cosa le guance immagino la palla pensavo fosse per moro non me l'aspettavo sì pensavo fosse per moro bravo cantelli sono dal portiere io torno su che fa? non sa chi darla mi sono avvicinato io eh col qua del lag ragazzi non il lag ragazzi va bene è intanto era la stessa cosa no lui era più libero ma che testa di cazzo ma è angolo è angolo l'ho presa l'oro ah sì? eh non lo so dopo aver perso i frame dove è stata confinta sono qua io incamela no c'era anche fuori fuori no ragazzi potevo tirarla fuori mezz'ora prima Marco se non la prendi se tiri da fuori quella situazione prendevi sicuramente in faccia a qualcuno ma quello vabbè dove va il portiere oh mio dio ragazzi non pensavo rientrasse così tanto scusate pensavo puntasse la porta e poi ho mollato il triangolo due ore prima ma queste purtroppo con lag no lo devo far uscire quindi ok proprio zero sono qua dentro l'aria no no ma io ho mollato molto prima l'uscita e che col fatto di sta connessione del cavolo per lui l'ho mollato molto dopo a me i comandi non laggano a me sì dove va vado ma non è vero però scatta a me invece laggano anche i comandi tutti dei fotogrammi incredibili sì vabbè film di palo chi ha votato no se è contento di questa vittoria del sondaggio contraffatto sempre per Corvo era questo più però che bella divisa che hanno loro ragazzi ma io non sono ma siamo una bella competizione proprio ma ma scusa ma con che logica il gioco decide di dare la palla uno per terra dipende cosa pensava in quel momento sembra una bella cazzata anche perché stavo mirando in avanti e l'ha passata indietro proprio comunque io lo dico il rosa sta meglio addosso agli uomini il viola o il rosa? il rosa ma hai detto stavi andando eh porca miseria la mia pazienza propongo di cambiare i fiocchi per le nascite di invertirli ma sai che leggevo che il fatto di associare il rosa al sesso femminile è una roba molto recente perché era per Luke? fine 1800 comunque da me a scuola i grembiuli erano neri maschietti bianchi femminosi anche perché prima i colori non c'erano ma era bellissimo una volta invece il rosa era il colore dei re tipo e il blu delle regine vedi? perché mi hanno capito tutto a me piaceva molto il nero e il bianco su dei grembiuli più che l'azzurro e il rosa sinceramente un commento ho letto un post su instagram che probabilmente avranno letto l'articolo del post campioni del post ma in realtà il trend lo potete cambiare tutti voi no in realtà non è vero no se il tuo bambino a scuola lo vai col grembiule verde te lo fanno cambiare non è vero? è certo da me era obbligatorio poi saranno cambiate le cose a me era obbligatorio avere il grembiule io andavo col grembiule rosa con tutte le mie amichette col grembiule rosa e mi davano il grembiule giallo perché? alle elementari a me era obbligatorio il grembiule se non lo portavi ti si incazzavano tantissimo da me mi davano dell'asilo o del grembiule? non sapevo neanche cosa volesse dire l'elementare no andavo vestito normale a me elementari era obbligatorio proprio si incazzavano mi ricordo che hanno addirittura chiamato i miei perché non lo volevo mettere una volta era obbligatorio da me a me era obbligatorio avere il grembiule e poi del colore esatto guarda che non era l'unica zona che cazzo posso assicurare che non è così strana come cosa anche da me era così il grembiule è nero io invece lo mettevo rosa e mi mi prendevo l'unico noi siamo stati fortunati abbiamo potuto esprimere noi stessi tramite i genitori che ci compravano i vestiti però eh si prova a ributtarla corri bravo qui a sbarcarsi prossimo come l'uomo bella bella Luke eh bravo io sono dovuto rientrare dal fuorigioco se no mi butto bestia ma perché hai fatto quel movimento è perché lui me l'avrebbe intercettata è la passata lo distratti facevi da sponda a chi a noi al lato e no l'avrebbe intercettata ma no da me l'ho di sicuro come no ero davanti a te ma che cazzo vedi Marco ero davanti a te no no non è vero ce la facevi tranquillamente a fare sponda su di me posso capire quello un po' più avanti forse ma io proprio ero tranquillo bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla Schultz Schultz adesso mi ha fatto due scattoni io anche me sto scattando ho visto quando hai tirato la palla e quando l'ho colpita di festa e basta adesso sta peggiorando anzi io penso di averlo avuto obbligatorio solo all'elementari si si anch'io solo all'elementari dalle medie in poi ho fatto quello che volevo beh grazie no no le medie facevo quello che volevo ma io le medie veramente è andata a scuola negli anni 50 ma io anche all'elementari facevo il cazzo ma infatti era alla scuola materna ma era obbligatorio semplicemente ma probabilmente dipende dalla scuola no è perché i bambini sono delle merde e il grembiule te lo metti se no ti immerdi tutti i vestiti e noi la scuola materna avevamo il grembiule diviso per classe e devi ricomprarlo ogni giorno noi eravamo i gialli no ma infatti dipende dall'istituto avete mantenuto i gialli per tutti gli anni quindi ogni ok ok ho capito dipende dall'istituto ma non è una cosa così strana ve lo posso garantire no no all'elementare ok cioè se c'è qualche scuola che fa mettere il grembiule alle medie per favore chiudetela esatto con scuole fasciste ma anche anche alle elementari è abbastanza perché elementari cioè il grembiule appunto te lo metti perché serve per non impattaccarti tutti i vestiti alle elementari che cazzo devi fare per non è che fai lavori ma in realtà secondo me il grembiule alle elementari non te lo fanno mettere per non sporcarti te lo fanno te lo facevano mettere solo per ordine secondo me ma infatti a me non me lo facevano mettere perché non serve un cazzo non riescono a tenerla cioè fosse stata la cosa del e altrimenti i bambini si sporcano avrebbe avuto anche senso non vedo niente sta veramente andando da merda non so neanche dove era la barra di caricamento mentre tiravo perché sono andato un po' così quella lì rimane sempre libero almeno cioè almeno quella in basso a sinistra dove? si no è che se carichi se c'è lo scatto mentre tu stai caricando carica più di quello che vuoi tu cross cross via 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 ma come cazzo fanno ad avere sempre loro ma mi ha ucciso madonna buona qui la lettura del difensore ma non è ingestibile adesso è un po' peggiorato beh ma quel lavoro lì non dovrebbe esistere anche essendoci cioè non ci dovrebbe essere giudizio no a parte che i ricchi vogliamo dire che i ricchi si vestono di merda ma non è vero se un ricco ha un gusto ci veste bene non è vero sicuramente è meglio cos'era sta cacata che era per gli azz io credo di aver premuto per ammazzarlo di botte ma che tutti i jeans che costano di più sono tutti strappati com'è? va Valentino lo sento me li aspetto me li aspetto da un povero i jeans strappati io allora capisco che tu dici che un ragazzino un bambino il decoro vestirsi in un certo modo ma il grembiule lo trovo veramente inutile se non minchia ma se devi lavorare con la pittura ma ti metti il grembiule solo quando pitturio non è che lo devi tenere tutto il giorno lo fanno tutto il giorno i bambini nella sua materna ma gli elementari no però ma gli elementari solo a te lo facevano mettere ma non era il grembiule ma non è vero Moro ti ripeto non è vero ma io mi vestivo la sentite così strana ma vi assicuro che era ho sentito solo ragazzi in cui era obbligatorio elementari intorno a me magari nella tua zona ma ti giuro che è molto è molto normale ma forse lì da te non stavo ma Luke se ne andò si si Luke ha detto che ha cresciato adesso poi recentemente da me era obbligatorio ma anche da mia sorella per dire che è andata recentemente era obbligatorio è verificato un errore che peccato adesso lo vinciamo Moro assicuro figura di titolo no è figura se non lo teneva in memoria no ma forse anche da me forse il primo anno c'era il grembiule elementare però dopo basta ma io sono sicuro e no 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 Eli ti posso assicurare di sì cioè qua da me ho solo persone che cioè proprio probabilmente sarà una roba più della Lombardia non lo so ma qua per me era io pensavo fosse per tutti voi in realtà perché per me è normalità elementari tranne la quinta non so perché tranne in quinta da me era obbligatorio tutti con il grembiule anche da me era obbligatorio ma un sacco di gente lo sta scrivendo perché si vede che proprio quell'istituto di quelle zone in più solo bianco ma era una divisa proprio non era in grembiule no da noi eravamo maschietti quello nero e le femminiule quello bianco e dovevi mettere per forza le lombardie dietro te avevi il grembiule all'elementari sinceramente non mi ricordo ma credo di sì ok perché a questo punto è davvero una roba no vabbè ha scritto Memis che era obbligatorio vabbè Memis è pugliese appunto quindi non è una cosa della Lombardia proprio in generale ho detto solo di alcune regioni è un quarto d'ora che te lo dico non so perché pensavo a Torino te io non so perché sennò andrebbe in contrasto con Corvo che invece non l'ha avuto vabbè che sono diciamo di due epoche diverse però ma io ti dico anche io e mia sorella Corvo ma mia sorella era comunque obbligatoria il discorso della distinzione modo vestire povero ricco boh anche io in Brianza il grembiule è obbligatorio nero per i maschi bianco per le tene anche a me mi sembra una cazzata ma per il semplice motivo anche da me era obbligatorio campagna cioè era un modo di le dice il grembiule lo fanno mettere anche per evitare che ci siano bambini esclusi per il modo di vestire da povero a ricco però qua lì secondo me è una roba che invece andrebbe però forse difficile con i bambini vedi guarda c'è uno sopra che ha scritto mai sentito di uno a Milano con il grembio obbligatorio sotto da me era obbligatorio Milano quindi per dire non è così non è così strano vi assicuro ma dipende dalla scuola hanno scritto anche dalla Toscana proprio dalla Puglia ma dipende io sempre ho visto come una roba proprio da asilo proprio perché la città all'asilo dai pastori io all'asilo non ce l'avevo sempre ma ce l'avevo avevo il mio grembiolino per quando pitturavamo e basta che era quello viola mi ricordo era uno viola però è un problema suo perdonami cosa? ha scritto un mio amico era andato in paranoia perché voleva dei pantaloni che avevano tutti che costavano 150 euro bisogna anche fargli capire che si se non si può grazie inzostri non è che vai in giro nusio mamma mia mi sa che l'hca pure questa no se non lagga sta partita è problema della squadra di prima a me sembra che lagghi anche questa no io rosso si anche io rosso io non sto laggando sto giro a me tantissimo ragazzi sono i server di fifa e niente direi che sono i server di fifa ragazzi a me adesso non sta andando a me sta andando peggio di prima c'ho sempre il simbolino prima però non scatto a me non scatta per niente adesso riesco a giocare però non è fluido ce la faccio ok no ogni volta la seconda ogni volta la prima era fuori gioco almeno aspetta di iniziare che arrivo anche se vuoi la divisa no secondo me la divisa no il grembiule è utile la divisa è una roba per ma il grembiule che mettevo io era la divisa amoro allora è diverso è la blusa il grembiule ma noi lo chiamavamo anche le maestre lo chiamavano grembiule come grembiule nero il grembiule bianco c'è il cross in mezzo ma non lo so adesso la definizione di uno e dell'altro ma come divisa perché a voi lo davano loro cioè lo dava la scuola no ce lo compravamo noi ma che storia erano ogni noi i maschietti allora l'importante è che erano un grembiule bianco per le femminucce e un grembiule bianco per i maschietti scusa però te lo potevi tipo io ne avevo uno con l'astronave e un mio amico ne aveva un altro con un'altra immagine cioè lo potevi comprare dove volevi però dovevano essere nero per i maschietti e bianco per le femminucce sì poi c'era una vera cansella di rosa scolorito sotto sotto quindi erano diversi però lo chiamavano grembiule ma non è il grembiule che intendete voi mi sa a sto punto è il grembiule è una divisa praticamente ha le taschie di fianco? sì ha le taschine no non è la parannanza è un grembiule con le maniche lunghe con i merletti si si proprio da principe ma che cacata era da principino gambioni del guau re ti farei vedere una foto di classe ma chissà dove sono dovrei avere da qualche parte ora questo la cosa era proprio che nella mia scuola era proprio obbligatorio si incazzavano chiamavano i genitori io ero uno di quelli che non lo voleva difendere in questa situazione non so se a Luke lagga meno ma nel caso la prossima facciamo un cambio adesso a me è proprio sparito il simbolo adesso io sono ancora rosso no me è sempre rosso ma riesco a giocare però c'è il coso rosso io zero anche perché per difendere è il 90% tempismo e qui mi va tutto a fare in culo not a number qua avevo fatto il passaggio alto io non l'ho scivolata in festività di questo intervento bravo Fabri non fate il tempo in possesso allora ragionandoci sarebbe guarda sarebbe abbastanza giusto far mettere le divise agli scolari eccetera un po' imporgli è un po' regime militare un po' regime militare ma non lo so io sarà che sono stato abituato da piccolino ma a me non mi frega cioè a me l'ho fatto solo perché non mi potevo mettere le maglie che volevo io lo è ma tanto quello che vuole con i ragazzi usano solo in determinati paesi che hanno effettivamente una sorta di regime esatto mi sembra un po' decisivo in Germania mi pare che la usi mi sembra un po' decisivo ma non puoi dire neanche in Italia perché Giappone come mentalità non puoi dire neanche in Italia si in Italia no ma no ma in Italia quanto abbiamo capito tanto metà sì metà no ma anche da noi la usano c'è già il fatto che metà di noi la chat l'ha usato vuol dire che anche qua si usa è che almeno nel Grembiule magari non c'hanno il taschino per mettere il fumo esatto noi ce l'avevamo per il taschino tutte e due non ci mettevi il fumo ma l'elementare era anche dura ma io ho voglia sai quante siringhe ci ho messo io nel mio in realtà penso sia pizza si è utilizzato in tutto il mondo il Grembiule mi vestivo veramente da stronzo sì sì ma è indipendente dal posto in cui sei esatto veramente sono da scuola piano Ronaldo mi vestivo veramente da stronzo a scuola io comunque solo che l'avrei fatto a più mettere alle superiori che alle dalle medie ti veste tua mamma comunque ma no in realtà ci sono pro e contro da entrambe le parti io ho detto non l'ho mai visto a parte cioè a me avevano chiamato i miei genitori perché io volevo vestirmi come volevo io perché ero fastidioso ma in realtà poi mettermi il Grembiule mi fregava relativamente cioè non è che ma io mi spaccavo i coglioni tantissimo che volevo vestirmi come volevo semplicemente che poi era avevo caldo io ragazzi già da picco quello che si abbottonava nella schiena cioè ma perché una camicia di forza era oh my god non stavo giocando stasera cioè per andare al bagno a urinare dove si era su sei metri di Grembiule guarda che innanzitutto devi chiedere il permesso e a volte dicevano di no quello che ho sempre detto io infatti te la faccio qui non è che è un problema ah peccato il permesso per uscire anche alle superiori quella è stata una che mi andava a fumare sai che c'era mio papà invece che mi diceva se ti dice di no vai lo stesso lo so che non dovrei dirlo non me ne frega niente e lui diceva oh se devi andare in bagno non me ne frega niente ti dice di no vai è chiaro se devo andare in bagno lui mi diceva li capisco benissimo perché i bambini sono tutti testi di cazzo esatto c'è quello il problema ovviamente mio papà mi diceva se effettivamente non ce la fai più vai lo stesso mi diceva non fregatene ma perché se te la devi fare addosso vai non è che può dirti no se te la fai a noi balassimente ti facevano andare però ma io non mi sono perso ragazzi ma che cazzo l'ha tirata una volta a lezione io non potevo fare questa roba ma Marco perché mia mamma era la mia maestra è giustamente ma che cazzo di scopo che brutta cosa corna mio Dio e l'ho anche scelta pensa a quanto in realtà capisco non biasimo mio padre loro che ti dicono di no delle volte perché i bambini sono dei perditempo ma non far uscire perché ma perché magari pensi che vai a chiacchierare a perdere tempo magari qualcuno lo chiede in continuazione esatto no ok ma dal principio no cioè se uno me l'ha chiesto un quarto d'ora fa è già uscito e vuole uscire di nuovo o si attacca stocco ci sono quelle maestre che non ti facevano andare perché c'è la lezione devi stare attento lì esagerare se un quarto d'ora prima l'hai mandato a urinare ma lui è andato a fumarsi le brancanne ecco sai quando non si facevano uscire alla prima richiesta se lo chiedevamo subito dopo l'intervallo giustamente dico cioè sei stronzo e poi più o meno perché io durante l'intervallo ma io avevo dieci minuti il tempo di mangiare durante l'intervallo c'erano delle code incredibili nei bagni ma a parte che dieci minuti dovevo mangiare andare in bagno farmi la permanente a parte che ero in una squadra talmente grande che il code in bagno penso neanche se ti impegni riuscivi a farla dovevano mettersi tutti a bere la cacca con la lunga anche da noi il problema è che fumava me compreso ovviamente eh no invece noi avevamo il giardino interno dove si poteva andare a fumare ma tutti si schiaffi solo al primo tempo li abbiamo presi da voi si poteva andare a fumare eh sì alle superiori eh alle superiori ci mancherebbe sparavano sì anche da noi se ti beccavano la sigaretta ma scondevo le gran sigarette accese nelle tasche del piumino anzi molto spesso durante l'intervallo con il prof un po' più alla mano fumavano con gli studenti ma Vector non era finito vabbè Vector è sfasato Vector vabbè non è che cambierà molto è profetico però Vector probabilmente andava già bene così Vector Vector perché la soluzione sarebbe quella di licenziare permanentemente Vector dal suo ruolo di pronosticatore però visto che ci diverte questa situazione è molto è molto memabile è una situazione molto divertente ci continueranno a essere i pronostici ma sarete consci di sapere che potete essere tranquillamente scammati è una possibilità insomma è prevista da contratto ci concentriamo tantissimo dai zitti dai ma non credo cambi oggi adesso mi lagga meno anche se è ancora rosso ma io ti ho detto sono sempre rosso dall'inizio ma molto meglio che appena la partita la partita la partita la partita bravo il difensore che ferma tutto non ho capito perché l'ha passata a Luke quando era per Mark io ho premuto ogni cosa mi ha ignorato tutto quindi non era per me secondo il gioco vediamo cosa inventa ora vanna che spiove no mannaggia sono qui ah peccato non c'è arrivato ho già dietro ho già dietro ho già dietro ho già dietro ho dietro vado via vado via vado via vado via vado via adesso vado via adesso vado via capisce tutto 0 sotto da solo eh scusa ho visto il perito vado via vado via eh stavo andando via eh ma sei zitto vai via è un po' di coglioni insomma eh è venito il poligione eh vabbè questa è la puttanata ma io per dare al terzino come devo fare per darla al terzino se non caricare tutta la barra di potenza e mirare in su Vector tu lo usavi obbligatorio il preview le elementari ma Marco concentriamo questa la vinciamo eh sì ma anche solo pareggiarla andrebbe bene è vero è vero in effetti non è neanche una cosa così infattibile cioè dai dai ma anche te è obbligatorio due due si recupera vi fa si fa ma che poi appunto in realtà non è recuperabile su bianco e nero mi piaceva anche ripeto come colori cioè preferivo azzurro e rosa io voglio colori lo volevo rocobaleno ma poi il superiore diventa complicato come fai a dire se uno si deve vestire da maschio o da femmina sei già un'età in cui inizi a a ponderare era il tasto del cross io lo giuro perché no ma anche a livello di come ti senti te nel tuo corpo ma che cazzo vuol dire ah ti basi su se ti basi allora se vai solo sul biologico mi vesto come cazzo no lui intendeva se metti i grembiuli non puoi alle superiori metti che decidono di mettere i grembiuli alle superiori come lo gestisci che tanti capiscono la propria sessualità un signore con la barba però la gonna alle superiori con il grembiulino con il bambino cioè tu immaginati se lo facessero per davvero non il grembiul è da elementari la divisa la divisa io c'avevo il camice da chimica vale lo stesso quello è unisex ma guarda che praticamente il camice il bianco il camice che avevano le bambine nella mia classe era praticamente quello da chimica perché era bianco lungo era quello sono anche qua dietro non fare cross devo riprendere ok dovremmo farci un podcast su questi grembiuli mi interessa strighezzi sono pure caduto per terra ho fatto un passo e sono caduto quanto ho di fisico ma a parte che io avevo comunque vabbè non era un problema della mia maestra perché era una cosa dell'istituto quella dei grembiuli ma la mia maestra era molto vecchio stampo ma tanto ma veramente tanto vecchio stampo sì no lì era proprio un'altra cosa ma ho visto perché sono qua io vabbè vado via lo ho fatto veramente a posto chiedono se alzava a braccio destro no non alzava a braccio destro solo quando doveva essere interpellata in realtà gli volevo anche bene nonostante fosse molto severa perché comunque ci teneva c'aveva anche scritto una lettera gigante mi ricordo che alla quinta elementare ha scritto ognuno di noi una lettera individuale quindi che ha speso tempo però avevamo 30 tipo in classe perché ci teneva era molto bellina solo che era molto severa quelle più severe sono quelle che ti rimangono di più è probabile sì no ma perché me lo faccio così ho sempre perché dipende praticamente quella che mi ricordo di più dipende se è severa ma giusta sei una stronza senza motivo ma ti ricordi anche la stronza perché sì sì però non te la ricordi dicendo ah però alla fine aveva ragione c'era un prof severo ma non sapevo un cazzo e io avevo il coso del cross però che gioco del cacchio ma non è giusto però scusate uno c'ha il tasto del cross la palla si allontana faccio la scivolata è severus ma è piton ti chiami caruso adesso da me c'è uno che si chiama caruso c'ero c'ero ma no ti chiami caruso mi piace caruso e si è verificato un errore poi lo sapevo guarda te io so ero sempre qui ero friz io ero sciulzi forse ha messo caruso non so va bene anche caruso mi ricorda quello dei legis da me c'era un infatti non se le faceva dire erano tutti zitti quando c'era lui in classe però era anche un simpatico dove si è andato non sai che da me i maestri maschi erano quelli più ma perché non erano nel fuorigioco più cioè non erano severi per un cacchio proprio dei deficienti ma anche alle medie alle superiori cioè non ho mai all'elementare non ho avuto maschi quindi non lo so io mi ricordo il prof di fisica superiore era un cretino era un imbecille cazzola ho avuto un prof d'inclese ma dai alle medie di maschio avevo quello di musica io spagnolo avevo è quello di religione quindi bravo moro grazie appena esce moro caruso anche moro chiaramente anche prima è appena esce moro ma che caruso è vero anche moro c'ha scritto caruso dietro ma che succede ragazzi fifa credo sia andato completamente infatti a sto punto dubito c'è un problema della team davvero no perché a me non lo fa più quindi no ma io adesso c'ho il simbolo ma non vedo cioè ho aperto ogni tanto che lo noto sono abbastanza o forse mi sono talmente abituato che la tasta sta scattando ancora ma non lo noto ah peccato caruso ma da prima mi sa vado è l'ultimazione dai no ho schiacciato il passaggio ma passala ma era in porta ma dai peccato peccato ma che cazzo vuol dire marco e caruso da inizio live allora niente sarà stato palesemente un problema di film però perché anche moro era caruso tutti siamo caruso tutti siamo tutti caruso io sono caruso il portiere è caruso no è vino we are groot vabbè dai l'ultima l'ultima impegniamoci un po' va oh dove era la partita come si gioca ecco qua adesso non abbiamo i processi di nuovo proviamo a fare esci vedere se cambia qualcosa ma voi come dicevate saltare la scuola ma lì si noi dicevamo bigiare ma in realtà noi tagliare noi far fuoco facciamo o facciamo uscire ho fatto esci tendenzialmente dicevamo bigiare ma in realtà ne ho sentite di tutti i colori quindi il capitano ha abbandonato la nave bossare sono io il capitano ragazzi devo uscire ok potete rientrare balzare vai un pronostico come impiccare ma non ci credo impiccare come impiccare da me da me era salare da me era trombare asalasti eh sì trombare la scuola ma davvero tagliare no era una cazzata di parli perché c'è segare trombare era credibile no ma tanto tutte quelle che sto leggendo non hanno senso c'è bruciare cosa vuol dire vabbè giuro era tutto da me era sgarrare immaginate questo gruppo di sedicenni alla fermata dell'autobus oggi impicchiamo oggi trombiamo oggi bruciamo ma anche solo oggi facciamo sega da me era da me era sgarrare anche italiana ma io t'ho detto io ne ho sentite dieci diverse nella mia vita t'ho detto bigiare forse perché era quello che usavamo più spesso ma ne ho sentite veramente di ogni da me era cuore un bigiamo è veramente un buonito come parola anche perché il mio compagno di classe si chiamava bigini cosa voleva dire questo bigini se lui è un cognome di merda possiamo far poco ma povero dai non lo salutiamo con affetto non lo salutiamo ho due simboli ok è andato via tutto grazie anche a Orso grazie Orso è tornato grazie a Orso infatti subito su con l'organismo su cammini e grazie anche i Naivass grazie a Orso e grazie a Inaivass grazie a Inaivass 99 ma noi andavamo proprio ah vedi non ti impicchiamo ma impiccare cosa vuol dire ma anche anche bruciare ripeto è molto tirata anche segare ma in realtà secondo me in ogni scuola c'era un addetto che un giorno ha aperto il dizionario ha cercato un verbo ma non sono parole neanche da dire sgarrare non credo no lo sgarrare si usa in dieta è vero però non so se è dialettale bigiare tipo non è sbagliato non so da dove arriva bigiare effettivamente però lo usavamo sgarrare non è solo nella dieta è proprio in generale si si vuol dire non rispettare effettivamente la parola giusta ma in italiano si diceva e si può dire anche marinare la scuola ma non so perché ma la marinatura esatto cosa c'entra magari marinare sgarrare sgarrare la mette sotto sale questa suola questa suola siamo ancora a caruso è vero pomo sci si mi ricordo ha ragione marinare ma marinare lo leggevo nei topolino tipo oh mio dio ma questa palla era fina ma perché è molto è molto vetusto che male campione del cuore drombowski quello non si diceva no secondo me in qualche scuola plinio perso plinio si chiamavo te ma io sono ma io pappa un te si plinio ronaldainus segare perché seghi quella se cerchi si fegato lo trovi però capite che sono molto sono molto tirate bigiare per esempio non lo so perché si ma io voglio darla porca miseria che fatica a passare un pallone mamma mia ragazzi ma cosa deriva bigiare cosa vuol dire nel vostro dialetto bigiare da noi era uno dei modi per dire quando marinavi la scuola perché ci ha riportato un testo che dice che non si sa da dove deriva bigiare ok sarà dialettale allora probabilmente sì penso proprio ma comunque gialetto è una storpiatura di una pariola etimo inserto mi piace oh my god sto cercando di andare via perché non riuscivo a darvela tutto veloci quanto me questo era un bell'intervento bruciare per me è veramente eccessivo ma che stai facendo chissà che co eh ti ho detto da noi dicevamo fare fuoco sei tornato indietro per tirare domani fai fuoco ma sì ma Marco ti stupisce ancora che parliamo di merda no ma tu ma io in generale nell'italia ancora mischio la febbre siamo sempre quelli che abbiamo la cacca noi sempre tu noi della della bassa io ho sempre detto mischiare la febbre perché è dialettale ma è sbagliatissimo che bello che bello che bello bravo Caruso eh chi si chiama tutti le mie dita guarda come indicano gius bianco oggi ho fatto un sacco di assist avessi fatto mezzo gol per sbaglio Mauro mi piace poi controllatevi anche il nome dopo perché secondo me vi ha messo Caruso secondo me no sulla maglia prima era scritto giusto esatto Moro no Moro aveva Caruso anche nella maglia che bomba mia ragazzi che azione che gioco di magabbe abbiamo fatto un bel situazionario è vero a me mi spicchia la gente per dirgli di sbrigarsi il mio non ha neanche provato a saltare ciò vede dice Mena ah è vero che poi menare non vuol dire non vuol dire picchiare Mena vuol dire dai su forza no no vuol dire scuotere scuotere quindi quando meni qualcuno stai scuotendo le mani nel suo dialetto inteso così nel suo dialetto nel suo dialetto ma il corno diceva in italiano no ok no io dico in italiano sì lo so che lei è tipo come per dire dai su muves in mio bar vado guarda che sono entrato sono anche dietro se vuoi sono posso bello se magari non avessi avuto un mitra al posto della gamba di solito con la pezza di carne mitra matri questo lo marco io ma perché si è fermato si è fermato completamente meno male che era meno male che gli è pezza sbagliato io non sono stupito sempre più da come funziona la difesa in sto gioco mi stanno chiamando da Ferrara come si si mettine la voce non risponderò no mi spiace dighi maial bell è incredibile la passata a corvo si ha lodato il signore oh mio dio tira questa pallone la tira pistala ma dai è incredibile questa cosa chi è lo scemo tutto il gioco moro tutto il gioco e che squizzo di merda proprio è tornato rosso no in zona ma ricoperdo eh quello è un guilla fate entrare gli effes una galletta come si dice gazzella non riesco a capire cosa tu intendi uno che va veloce ma che stronzo che sei guarda si un po' si guarda infatti vedo che si fermano mi stavo grattando un occhio ne ho approfittato stavo grattando l'occhio e invece per gli Ezzar vedi che ovviamente era sottomesso a quel gigante incredibile d'altro ci ha messo un quarto dove arrivare potevamo prendere un paffè prima di saltare i test moro ci sono sono un bagarino corvo come sono un bagarino ma questa non la sentivo nel tiro a differenza di quella di prima ho detto sicuro mi spara una fucilata ho detto ah perché ho peccato perca miseria perché venivamo tagliato sia io che corno tutti e due insieme con l'aria però siamo partita porca paletta siamo effettivamente all'interno ma si 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 chiediamoci a questo punto le grottaglie ragazzi ho schiazzato il rinvio sei anni prima io però non è possibile oh mio dio mi ha fatto il sguigulin non so cos'era ma non è vero come lagga di nuovo doppietta di mauro caruso il mio pr24 scusate di azzaro sono qui ormai mi piace senza estrarre mi faccio vedere da uno molto competente ha girato verso sbagliato eccoci qua dai dai questa possiamo sperare quantomeno dai bevo vedi questo non ce le ha tutte le curve voi chiamate vostro padre babbo o papà da piccolo o papi anch'io manca adesso ogni tanto anch'io dipende di solito o pa ecco pa lo uso spessissimo sul telefono invece c'erò con nome e cognome ah si no io c'ho papà anche lì ma bambbo si usa ho tutti con nome e cognome toscana toscana si usa tanto babbo mi sa io nome e cognome perché sono un bastardo lo chiami vabbè ma anch'io anch'io chiamo pino nome e cognome anch'io li chiamo pino e caterina sempre la gente rimane sempre scioccata ma scherzo io mai solo nella rubrica ma mai per io sempre mi amo a caterina però ci scherziamo ma non è vero ragazzi sono scappato via dal pallone io mio padre da quando sono diventato più alto di lui ho iniziato a chiamarlo tappo perché lui chiamava me tappo quando ero piccolo giusto eri fuorigioco c'è pasta lasagna tripletta di pr24 ma che tripletta mauro caruso mauro caruso mauro caruso ma la tripletta di mauro caruso di mc no non mi ricordo il primo chi l'ha fatto mc 23 e mezzo mauro caruso certo ma nella realtà mauro mauro caruso mauro caruso eccolo l'abbiamo visto tutto ho odulato arrivo un attimo che arrivo eccomi e che cazzo meno male che ci hai pensato ho pensato bene hai visto ho visto il fumo che usciva eh si vado a corvo grazie a me a me però ci ha messo sei giorni ma mi faccio vedere ma non è vero si si ci ha messo gli ha fatto l'animazione lunghissima si vado oh merda oh che staccio di nuovo palo hop fato fado un gol fato madonna quanto forse nel dubbio corro pulitissima bello arrivo da dietro bravo moro avevo il piede duro bravi tutti bravi bravi ma no ma cos'era quel movimento era carlito era era carlito con le spalle ma no sono qua va bene ma no moro sembrava carezza quando hanno fatto vedere la testata di Zidane eh no eh no eh no swish io non c'ha posso fare rischia di rovinare una carriera è proprio lì che ha fatto questo movimento di testa di dove eh ti giuro ti giuro che non è rontino arrivo come si chiama il film quello con il cappellaio prappa non mi ricordo con ben stiller che fa lo sguardo che fa il modello ah Zoolander era lo sguardo di Zoolander quello che ha fatto Korn e Korn ne hai due lì dietro e sto cercando di effettuare un passaggio effettuami effettuami un passaggio lo vede che pulizia ti gioco bene quando non si lagga eh sono tranquillo che palla che buco e adesso oh mio dio una palla ma io c'ero comunque in tutto questo ho capito mi ho fatto il doppio colpo aspetta ho voluto essere arredito yes ma le ho reso c'è solo che arrivasse a Mark che era un po' più libero su se qua eccolo Mark aiuto quanto ha rimbalzato quella palla cosa era il Magnum chi è che mi chiama tieni gelato non ero lì ma va bene non quale ma che cazzo dove eri dall'altra parte e siete tutti uguali con sti greviuli scusami gol è ancora in vantaggio la squadra sempre l'altra quella di prima ve la passi? ahah non lo so Eliezer io ci provo eh un po' scusami fuck vero inglese il portiere il portiere il portiere l'assorbo io oh mio dio prendo la palla pippo ero sicuro che ero sicuro che ero sicuro che l'avesse che l'avesse già il difensore quindi ero già pronto per ammazzarlo così no non ce l'ho fatto era per te e io che faccio ma chi lo ha dato dinkleberg ferrano scusa Luke ero convinto fosse per me ho scicciato il tiro e non so perché ha fatto il contrasto oh nonna eh occhia ragazzi ragazzi preghiamo anche questa bravo ma non è possibile perderla questa moro montaditos fa i pani e i pesci cosa fa anche le cose al pesco eh immagino faccio anche io non li montaditos forca miseria ha chiuso quello che c'era a Bologna tra l'altro non so neanche cosa si faccia da montaditos sono panini piccolissimi eh non li ho mai mangiati oh mio dio pensavo fosse per me ottone e manici di scoppio palura e pura questi sono tre sempre in attacco si si ma mangia solo il pesce 100% montadinti e palle ero girato non ce l'ho fatta i men e la mente è la quella i men voglio un gremiule con lo spazio per cacare e si c'erano di più postiche il Gisus lo swipe in briskets sotto 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 bisteccao negale anzi dotto dotto questa era proprio quella c'è Corvo che ha voluto fare visita la perdica segnatato è impossibile finalmente la tripletta is real davvero era veramente morto troppo Zulena cinquina di Mauro Caruso dammi questa palla per favore grazie ha fatto tre gol Marco due moro no uno uno io l'ha fatto quella Giacomario Giacomario ma ciao Giacomario mi aveva scritto l'altra volta su Steam poi mi sono scordato di rispondergli Giacomario come stai che fatica stasera però io non ho più io nemmeno non possiedo amici vi consiglio di andare da gatto quindi ringraziamo ringraziamo Valentino Corvo Fabrizio e Federico che sono sempre ospiti anche loro in coppia e anche e soprattutto il nostro amato Luke e noi vi ringraziamo vi ringraziamo andate via non vi voglio più vedere no vedi qua basta andate da gatto e gli dite e